ciao come stai? voglio bene tutto a posto tutto a posto ma Michele non ti vuole più bene cosa è successo? Michele fa finta che gli piacciono i meloni i meloni o i cocomeri? tutti e due non mi vuole bene non mi vuole portare a casa non ho mai visto un melone che parla io anzi no è un un cocomero eh un cocomero io sono un cocomero e si e si adesso mi vogliono mangiare questi figli di puttana ma come ti chiami? mi chiamo Michele come Pagnozzi ah Michele tu sei io Michele 2 Michele 2 mi chiamo ma ti vedo tutto verde da fuori eh ma infatti vengo dal pianeta verde ma mi hanno detto che arrivi da dove arrivo aspetta un attimo la decima mi portano la decima si si io sono un cocomero buono ma molto buono e chi ti ha portato qua? è quel bastardo di Gabriele che mi ha voluto portare a casa sua mi ha portato di nuovo qua non ci volevo venire non ci volevo venire adesso la saluta va ciao